Sono 18 i comuni comaschi al voto per un totale di quasi 160.000 elettori. L'appuntamento con le urne dell'11 giugno coinvolge non solo i tre centri più grandi della provincia, come Erba e Cantù, ma anche altri 15 comuni. Sindaci e consigli comunali verranno rinnovati anche da Piano Gentile, Barni, Beregazzo Configliaro, Blessagno, Brienno, Campione d'Italia, Geralario, Guanzate, Orsenigo, Porlezza, Rodero, Rovello Porro e San Bartolomeo Valcavarnia. A questi si aggiungono anche altri due comuni di nuova costituzione, Alta Valle in Telvi, nato dalla fusione di Rampogno-Verna, Lanzo in Telvi e Pellio in Telvi, e San Fermo della Battaglia, che ha da poco incorporato Cavallasca mantenendo il nome. Solamente a Como, Erba e Cantù si andrà all'eventuale ballottaggio il 25 giugno, qualora nessuno dei candidati raggiungesse la vittoria al primo turno dell'11 giugno. Tutti i dati relativi al turno di amministrative possono essere scaricati e consultati sul sito della Prefettura di Como, alla voce Ufficio Elettorale Provinciale.